Sicilia, siamo diventati per l'Italia la Grecia dell'Europa, no? Nel convinto il presidente provinciale della CNA Giuseppe Massari nell'analizzare la difficile situazione in cui versa l'artigianato e la piccola e media impresa un comparto al collasso messo in ginocchio da una politica che ha strozzato l'economia meridionale costituita da un tessuto produttivo diverso rispetto al nord. Stamane ad eventi quotidiani Giuseppe Massari ha parlato delle cose da fare e ha detto che la ricetta per uscire dalla crisi è l'internazionalizzazione, unico strumento. appunto per uscire dalla crisi, per fare CNA Giuseppe Aggregarsi, fare rete e ricapitalizzare la propria impresa. Noi stiamo lavorando, lo diremo, perché dobbiamo prepararci per uscire fuori. Noi ormai non riusciamo più a garantire le imprese nel nostro territorio. Allora stiamo preparando dei bandi, ma lo diciamo da anni. Noi dobbiamo internazionalizzare le nostre imprese perché altrimenti non andiamo fuori. non possiamo pensare di continuare o di riuscire a crescere se non andiamo fuori. La Francia è forte, ma i francesi sono in tutto il mondo. Guarda, dobbiamo uscire da quella mentalità che il lavoro viene a casa nostra. Si deve internazionalizzare, si devono capitalizzare le imprese perché siamo bassamente capitalizzati. Guarda, ora siamo tutti poveri, ma nel passato da noi ci sono stati, devo dirlo, i proprietari ricchi e le imprese povere. Invece va fatto il contrario, cioè il proprietario un po' si spoglia, il titolare un po' si spoglia, ma l'impresa si deve capitalizzare, altrimenti all'esterno non siamo credibili, non siamo guardati. E dobbiamo creare quelle strutture che dicevo prima, immateriali, che ci consentono di andare fuori. Quindi dobbiamo creare le rete, è una cosa immateriale. Per le rete non occorrono risorse, non occorrono soldi, occorre che noi capiamo che dobbiamo metterci assieme. Perché altrimenti il piccolo, lei diceva bene, il piccolo da solo è destinato a morire, ma il piccolo con altri può diventare grande, può diventare grande perché poi ha varie professionalità, varie risorse, quindi guai a dire l'artigianato non è più valido, la piccola impresa non è valida. La piccola impresa è ancora valida, l'artigianato è valido perché ha un grande know-how se si mette assieme, se costituisce rete, se costituisce associazioni, società che possano competere con l'esterno.